www.customapps.com ok ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della custom maps contro frapo ok allora eravamo rimasti già mi sono perso al corso qua labirinto e andiamo di qua o cacca una cesta blaze road ma di che sharpness fire aspect yes e siamo a due qui non c'è nada già mi sono perso andiamo di qua fa inchiule, inchiule rrrr qui non c'era niente manco qui perfetto allora ritorniamo indietro che la non c'era un cavolo di nulla dov'è? ok allora andiamo di qua no di qua fa inchiule, inchiule rrrr oh merda cacca mi sono perso siamo a tre ho trovato uscita e ora? no no vabbè ragazzi fa niente se non troviamo tutto il punteggio perché tanto non sto facendo logasnap per il punteggio ma la sto facendo giusto per recensirla per giocarla con voi vabbè what a fucc are you fucc kidding me? moth fucker gentleman vabbè what a fucc Madonna mi Mi batto lo corazon Ah ci siamo riusciti Che ca... Ah c'ho l'optifine Comunque se volete sapere Grave di seve in casa non si apra la porta Start Sembra un pistone inutile No sposta la cosa Stavo per cadere giù Qui Qui Qua Ma che Ma fa anch'io Qua Di qua Poi da questa parte E infine da questa Sì Sì Ci siamo riusciti Andiamo Ok Penso fosse una verga torciosa Andiamo 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 a fanchuler Sì i miei punteggi I miei sacri punteggi Le mie cose sacrissime Comunque abbiamo Abbiamo riuscito Come il mio italiano Abbiamo riuscito a fare Allora Questo non mi serve Questo no Cibo niente Nada No Questo non serve Non kaiser Possiamo mettere qua Spada in diamante Mi tengo Questo per adesso non serve Punteggio Torce E le pozioni Ok Mi sono sistemato Prima di uscire Qua Ok Oh cacca Cacca Quei di figli Cile Vaffanchiule Vaffanchiule Sì Madonna è stato Cosa devo fare Allora Ho l'intuito Che si deve andare Di qui Ovvio Checkpoint numero 6 Anche se non serve a niente Ma Ci mette sempre i meloni Cosa devo fare Uno Due What the fuck Uno due What the fuck Cadiamo Sì No Cavo Uno due E qua Laboratorio What the fuck Che caspita è Numero 3 Ma questa È una faccia What the fuck What the fuck Ok Leggi nota 4 Perfetto ragazzi Perché altrimenti Si bugga tutto Ovviamente Nota 4 Ok ragazzi Vi leggo tutto Leggiamo Tutto Ok Co No Nota 4 Cosa Ce l'avrei davvero fatta Grazie agli inferi Devi ascoltarmi No Ce l'hai davvero fatta Grazie agli inferi Deve ascoltarmi Aspetta Cosa seresti Una statua che parla Come osi Sono Netrin Il potente dio Degli inferi Questo E questo Non è il mio vero aspetto Ne hai di libera Che mi manda Direttamente la principessa O te la vedrai Con la mia spada Sei proprio un ingenuo Non c'è nessuna principessa Sei stato imbrogliato E mi meraviglio Che tu sia riuscito Ad arrivare fin qui Ti hanno sottovalutato Comunque sia Sei stato ingannato Non ti credo Sfoderando la spada Ehi Vaccipiano Devi credere Il sovrano Con cui hai parlato Il impostore Si tratta di Glaze Il sovrano Del popolo Dei ghiacci Da millenni Siamo in lotta Per sconfiggere La sua sete di potere Non pensavo Arrivasse a tanto Ha imprigionato Il popolo Delle sabbie Ma purtroppo Non so dove E ha ridotto Così me E il mio popolo Intrappolando Le nostre anime In questa orrenda Statua di pietra E ti ha mandato A morire Eri solo un'esca Che fungeva Da alibi O da alibi Non lo so Per il suo piano Ma tu ce l'hai fatta Ora Alla destra Della statua Troverai una chiave Che ti permetterà Di aprire Le porte numerate Recupera gli ingredienti E crea una pozione Di rigenerazione E gettala Nella bocca Della statua Solo così Ci riporterai Alla vita Istruzioni Visto che non so Come si fanno le pozioni Pozioni di rigenerazione Bottia d'acqua Più verrucca Del nether Pozione strana Pozione strana Più lacrima di cast Pozione di rigenerazione Ok Ok Ehm E dove Ok Siamo a 26 E penso che sta di qua Allora Sì Resto un torch Ok ragazzi Allora la nostra missione Sarà fare questo E quando avremo finito Le Pozioni No C'è C'è Come dire Ehm Come dire Ah sto però Il video giusto Va Fanchio Le Oh cacca No Odio Questo Specie di Questo specio Di labirinto Assalti Meno male che ci sono i muri No Madonna Che rischio Dai siamo quasi Arrivedi Sì Sono un grande No Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace L'angio Le perle Sulle varie isole Per avanzare Prendi più di una perla Se non addirittura Tutte Se sto usando la creative Barone Devi dare attimamente Allora ragazzi Io come al solito Ve lo dico Sì Non Se non riesco a cadere Io mi metto la creative Perché appunto Ehm C'è poi Ehm Ok Ok ragazzi Scusate per le parti Tagliate di video Che sono arrivato Fino ad un certo punto E non vi ho fatto vedere La parte Uno Due E tre Come la facevo Ma Purtroppo Voi conoscete Il pulsante C'è la freccia in alto No? Quella sulla tastiera Beh Visto che io Facevo così Con la freccia In basso Non mi accorgevo Che Quello era il tasto Per cominciare La registrazione Di fraps Quindi ora L'ho cambiato Con la freccia Destra E almeno così Non serve a niente Poi visto che io Uso V-ASD Ehm E quindi Volevo dirvi Che sono passato La Ehm Questa bottiglia Stava nel primo Questo nel secondo Che È tipo questo Qua è una specie Di labirinto Che si salta Sulla lava Un labirinto Sulla lava Praticamente Invece qua Un labirinto E tutto questo Si doveva Fondere Qua Per fare la pozione Quindi Questo Allora Mi pare Questo più Cosa Più la verrucca Del nether E mi fa La pozione Ehm Strana E poi Questa è per fare La pozione Di rigenerazione Anche se ce l'ho Ma poi Forse è stato Un baro Vabbè Stano La possiamo Chiudere Ok Pozione strana Mettiamo questo Di rigenerazione Ehm Dovremmo Buttarla Qua Dentro Finito Dai Ok Rigenerazione E ora L'andiamo A buttare Lì dentro Centrico Che vendi Di buono Va bene Allora Bisogna Prendi Una posizione Vabbè Comincio a leggere E intanto Bisogna leggere La nota 5 Quindi ragazzi Come al solito Vi dovrò Leggere la nota Però questo Lo faremo Nel No Non lo faremo Nel prossimo episodio Perché Per colpa Dei tagli Delle tre cose Per colpa Di questa Stupida Tastiera E di stupido Fraps L'episodio Secondo me È durato poco Quindi Vi leggo Anche la nota 5 E poi finiamo L'episodio Qua siamo No Così E vi leggo La quinta nota Ok Cosa dice Allora Grazie 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 mille Per aver liberato Me e il mio popolo Da quel maledetto Sortileggio Ora torna nel tuo mondo Uccidi l'impostore Libera il popolo Delle sabbia Purtroppo non so dove Glace li tiene nascosti Ma sono sicuro Che saprei scoprirlo Buona fortuna E ricorda che sarai sempre Il benvenuto qui Grazie Però mi dedito 500 euro Una volta ucciso Il falso re Cerca nella biblioteca Hai il permesso Di rompere le librerie Fino a quando Non trovi ciò che ti serve Andrà usato in giardino Su un blocco particolare Del muro Nelle vicinanze Del laghetto Ok Vabbè Ragazzi Ma la rimango Aperto Giusto Per Perché poi Se mi serve Se mi servi Che Ok Andiamo così Strano suono E via Azzovegna Avalirli Più bello così Stupida lava Ok Ok Il percorso che ho fatto Secondo me Quello è il percorso Che ha fatto Il minecart Mentre stavamo In minecart Della salvizza Siamo arrivati Oh Ah quella che avevamo preso all'inizio Vabbè Entremmo Non c'è più il minecart What the fuck What What Si è trasferito Ok ragazzi E' l'ora Di Uccidere Il falso Re Re Si Sono molti Sono venuto per ringraziarla Di tutto quello che mi ha fatto Oh prego Cosa vuoi dirmi This Is Sparta Voi Due Non avete Visto Niente Ok Sì 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 Ok 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 Bravi Perfetto ragazzi Ah giusto Andiamo in biblioteca A uccidere Le librerie Ok Librioteca Dobbiamo rompere Le Biblioteca Eh La biblioteca Eh Caspita Dobbiamo rompere Le librerie Finchè non troviamo Tutte le librerie Finchè non troviamo Quello che ci occorre Che non Lo so Manch'io Ma io penso Che dovremmo rompere Qua Tipo Vabbè Io rompo Tutte le librerie Poi si vede A me noi ci Leggiamo un bel po' Di favole Proviamo un po' Da questa parte Uh Che cos'è Un pulsante Un pulsante Beh ragazzi Io velocizzo Questa parte Vedo se riusciamo A trovare qualcos'altro Ok ragazzi Ho finito Di trovare Spero vi sia piaciuto Il video Mini Vilocizzato Mini Vilocizzato Sì Ora andiamo in giardino E mettiamolo Su un blocco Particolare Vicino al laghetto Ehm Sarà mica questo? Ah sì È questo Sì Che dice Ho sentito dire Che il popolo di ghiacci Viene nelle zone Nelle zone fredde Proverò a cercare Nella tundra Segui gli indizi Perfetto Ragazzi Arriviamo al popolo di ghiacci E poi stoppo Com'è bel Com'è bel Andare Da cocco bel Uh Ah Forse gli indizi Saranno Questi Cestichi Queste cose Di lana blu Sì Ho ragione Ho ragione Con due g Anzi con tre WTF La fine del mondo No Sì Una cesta Co Ma che stasparai Pevoto No ragazzi Seriamente Sendo fuori Dalla mia finestra Che sparano Potrebbero Birch Amatissime Birch Dovete vuontare Ah di qua Però potrei Togliere sto albero di mezzo Ah dove vengono Dove devo andare Di qua Di qua Oh Bella discussione Bella discussione Co 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 Dove devo andare Di qua Minchia Facete Co 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 What the fuck Oddio Oh ma stiamo a fare Il giro del mondo Ok ragazzi Abbiamo trovato La cupola Del popolo Dei ghiacci Finalmente Abbiamo trovato Il popolo Dei ghiacci Non mi piace Vabbè ragazzi Io direi di aspettare Qui E ci vediamo Nel Prossimo Episodio Vabbè Non si può spaccare Tanto Ci vediamo Nel prossimo episodio Dove visiteremo Il popolo Dei ghiacci Ok ragazzi Alla prossima Ciao a tutti